Un appuntamento immancabile in chiusura di stagione, ieri sera nella Clubhouse Bianco Blu di Via Nenni, all'asta le maglie della stagione 2016-2017, una sfida nella sfida con i giganti a competere tra di loro per strappare l'offerta migliore. A trionfare Brian Sacchetti, che ha battuto il completo i Rocksteep Cevici per 300 euro. Nella serata dedicata alla beneficenza, l'intero incasso è stato devoluto alle attività della Fondazione Dynamo. Sono stati raccolti oltre 6.000 euro. Il mattatore della serata, Mastro Dusko Savanovic, che ha dato il filo da torcere agli altri giganti. Oltre Brian, al tavolo anche Lollo Dercole, Capitan Jack De Vecchi e Diego Monaldi. Sul banco, le divise ufficiali della LBA nella versione trasferta blu, quella è la settima stagione in Serie A, le sovramaglie del campionato, le divise bianche della Basketball Champions League, nella prima storica stagione chiusa tra le prime otto squadre a competizione. Ed infine la limited edition della maglia rosa delle Final 8 2017 di Rimini, con la terza finale disputata in quattro anni. Ad aprire le danze sono le divise blu di trasferta del campionato italiano LBA. I giocatori estraggono le maglie da battere, il primo è Brian Sacchetti, a rompere il ghiaccio, a seguire Lollo Dercole, Diego Monaldi, il capitano Jack De Vecchi e Dusko Savanovic. Altra offerta record per la divisa ufficiale limited edition della Final 8 di Rimini è stato il completo Rosan col numero 7 di Trevor Lacey, Folletto e l'Alabama, che è stato battuto per 250 euro. Il vincitore della sfida è Brian Sacchetti, secondo classificato Lollo Dercole, e a seguire Diego Monaldi, Mastro Dusko Savanovic e Dulcis in fundo il capitano Jack De Vecchi, che alla fine ha dovuto anche pagare pegno, offrendo da bere a tutti i convenuti. Ma il capitano non trema. Arrivederci alla prossima stagione.